Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali come fa il cane e il gatto la genella la bucca la rana la pepora e il coccodrillo e il coccodrillo il coccodrillo come fa la spra il coccodrillo come fa il coccodrillo come fa il coccodrillo come fa oh la spra Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.